voci. Ecco, siamo ufficialmente live. Per ora solo in forma di voci, solo astratti. Beh, l'immagine è abbastanza eloquente e mostra quello di cui parleremo oggi, che è una graphic novel uscita adesso, in questi giorni, per Rituali Lizard, intitolata Il futuro non promette bene, e in inglese si chiama The Heart Tomorrow, di questa fumettista e illustratrice che si chiama Eleanor Davis. Io sono Virginia e sono qui. Ciao. Ciao. Io sono Raffaele. Io sono qua in realtà perché ho scritto l'introduzione di questa graphic novel anche molto volentieri, tra l'altro nel momento si chiama Un atto di resistenza. Sì, infatti, presentiamoti però prima innanzitutto. Non so se sarò in grado di farlo, insomma, tu scrivi per varie testate, scritto per Vice, scritto per Noisy, per Rolling Stone, non so se dimentico qualcosa, e adesso scrivi per la TV anche. Ma sì, al momento scrivo un po' per chi capita, sono abbastanza, diciamo abbastanza libera in questo momento da padroni, e anche abbastanza mercenaria. Comunque sì, ho scritto, ho lavorato per Vice per sette anni, ho diretto Noisy prima che diventasse troppo trap perché io lo comprendessi, e poi ho... Sei una millennial, sei una millennial, non sei più, no, più o meno. Quindi sei stata superata dall'epoca. Esattamente, esattamente. Quindi continuo a scrivere, ho lavorato in televisione, ho avuto varie esperienze, alcune belle, alcune brutte. Comunque diciamo che di base la scrittura è parte di quello che faccio. Un'altra parte abbastanza importante è, diciamo, la partecipazione a realtà di movimento, che mi sono sempre interessate. Non ho mai partecipato in maniera, diciamo, continuativa e consistente, però trovo che sia abbastanza importante comunque avere almeno un piede all'interno delle realtà più interessanti per quanto riguarda la lotta all'attivismo. E questo indirettamente o anche direttamente c'entra un po' anche col fumetto di cui andremo a parlare, poi magari capiremo meglio perché. E oltretutto ti sei anche reinventata in questo nuovo ruolo di prefattrice, credo che si dica così. Sì, tra l'altro mi hanno... Beh, Rizzoli, Lizard, nella persona di Pasquale, che ringrazio, mi ha contattato e mi ha chiesto di scrivere l'introduzione di questa graphic novel. Io non sono assolutamente esperta di graphic novels e questo lo dico immediatamente, così poi tutte le reference le farei tu, Raffaele, al mondo del fumetto e insomma quello che riguarda questa realtà che comunque mi appassiona perché è un linguaggio estremamente contemporaneo nella fine. Però l'introduzione credo che mi sia stata chiesta anche perché questo è un libro che parla di tematiche abbastanza universali per chi ragiona molto sul presente. Come fai anche tu, autore di due libri? Bellissimo, questa traduzione perfetta. La regia è prontissima, la regia è rapidissima. Ringraziamo Sara alla regia. Sì, io... No, adesso non farò una presentazione più lunga perché se no rubo tempo al fumetto, però appunto ho scritto questi due libri e fra poco ne esce un terzo, ma non dico nulla per creare suspense. E in realtà il secondo libro che ho scritto che si chiama La guerra di tutti, come dire, era anche un modo di fare i conti con tutta una serie di tematiche che stanno riemergendo in questi giorni, tensioni sociali, tensioni tra gruppi etnici, culturali, religiosi, la questione dei simboli, la questione della memoria, come si vive tutti assieme quando si hanno simboli diversi, memorie diverse, quando ci si è massacrati a vicenda per secoli o quando magari c'è un gruppo maggioritario che ha massacrato quell'altro, molto a lungo, come si fa poi a dire, ok, adesso viviamo assieme se quelle, come dire, passate, quei traumi passati poi sono in qualche modo sia presenti nella memoria ma anche presenti nella quotidianità, nelle ingiustizie ancora contemporanee. Sono alcuni dei temi che poi troviamo anche in questo fumetto che ha questa particolare caratteristica, poi ce lo spiegherai meglio tu che in quanto prefattrice, come dire, lo hai letto con maggiore attenzione, ma ha questa caratteristica di essere, come dire, una forma di romanzo di anticipazione, scritto, pubblicato un anno fa, un anno e mezzo fa, ma che allo stesso tempo racconta un futuro che è quasi già arrivato, no? Sì, io lo definirei quasi un romanzo di ansia, più che di anticipazione, perché è quel tipo di anticipazione che è creata dall'ansia, no? In inglese poi The Heart Tomorrow è proprio un'affermazione, cioè domani sarà duro, cioè ci sarà perché sarà domani ma sarà una merda probabilmente, quindi è un'affermazione media, cioè non riesci a capire se siamo nel campo dell'ottimismo o del pessimismo. È qualcosa che ti, è una constatazione, ti dice ok, la realtà è questa e domani sarà ancora questa se non peggio. Però è interessante questa visione dell'ansia come una forma di lucidità, no? C'è un sentimento che in teoria consideriamo ci porta ad avere una visione distorta della realtà, ma che in realtà ci porta quasi a una forma di preveggenza, no? È come si parlava, penso, negli anni settanta della paranoia in Borogs, la paranoia come in fondo qualcosa che sì, ti fa distorcere la realtà, ma ti fa vedere in realtà il futuro, ti fa vedere il tessuto segreto del mondo e forse l'ansia in questo contesto storico e temporaneo è diventata una forma di lucidità, di preveggenza, di... Sì, di prepararsi un po' a quello che arriverà, cioè non farsi trovare del tutto impreparati, no? Da un certo punto di vista. Io soffro di ansia, quindi molto spesso mi ritrovo a ringraziare la me del passato per certe cose che ha fatto per la me del futuro in preda all'ansia, no? Tipo mettere delle cose in borsa che al momento non servivano, ma che poi si rivelano fondamentali per il corso della giornata, è tipo un ombrello, non lo so, per dire. Non so se c'è qualche scena così, no? Non c'è una scena in The Hard Tomorrow in cui lei nasconde qualcosa, no? Cioè, magari raccontiamo un po', raccontiamo un po' la storia. Aspetta, la storia è difficile, perché poi spoileriamo troppo. Diciamo da come parte. Una ragazza, come lo riassumi, come lo presenti, diciamo, senza riassumerlo? Presenterei l'autrice, innanzitutto, così facciamo due cose in uno. Eleanor Davis, io ho disimparato a parlare nel frattempo in fase 1 e non ho mai più recuperato completamente. Comunque, Eleanor Davis, classe 1983, è un'autrice di diverse graphic novels, sia per bambini che per adulti, e tra l'altro, un paio delle sue opere, che io sarei curiosa di leggere e non ho letto, si intitolano How to be Happy e Why Art, che sono più saggistica, diciamo, questa è più una storia, è più fiction, quelle sono più non fiction, ragionamento, saggistica, e comunque è una persona che ragiona molto su grosse tematiche, come la felicità, come l'arte, come in questo caso l'ansia, l'ansia per il futuro. È un'illustratrice, come si può notare, che collabora con varie, adesso mi ero testate come New York Times, New Yorker e altri, insomma, diciamo che è abbastanza... È più le principali, diciamo. Ha un bel CV, Eleanor Davis, e ha vinto anche diversi premi che adesso non saprei... Non elencheremo per eleganza. Sì, per eleganza, perché sono troppi, per non offendere nessun premio, non elenchiamo nessuno. Comunque sia, in questo caso ha scritto una storia abbastanza autobiografica, direi, nel senso che lei racconta che nel 2017, quando ha iniziato a scrivere questo libro, era alla ricerca, insieme al suo compagno, di un figlio. Cercavano di avere un figlio. E nel frattempo lei era distrutta dal dubbio e dall'ansia anche di mettere un figlio al mondo in un momento storico così complesso, perché lei vive in America e in America c'è, insomma, diciamo, c'è chi sappiamo che c'è alla presidenza degli Stati Uniti e quindi immagino che per una persona, per una donna, che tra l'altro è anche un'attivista e che vive negli Stati Uniti e che ragiona molto di tematiche, diciamo, profonde, importanti, eccetera, l'idea di mettere un figlio al mondo, in questo mondo, con questo tipo di futuro, può essere qualcosa che già di per sé dà il via a un sacco di contraddizioni nel proprio modo di ragionare sulla realtà. Quindi questo è un libro che ritrae alcune sue situazioni autobiografiche come questa, come appunto il suo ruolo militante, come anche lei racconta che in quel periodo stava perdendo la suocera, che stava male, e infatti anche qua vediamo una signora che non sta bene. Quindi, insomma, è una storia che racconta diversi personaggi. Sì, che mescola un po' il, come dire, il privato, il pubblico, cioè direi che effettivamente, come dici tu, il cuore di tutto è questa, come dire, sia all'inizio che alla fine del fumetto, iniziano con, come dire, il racconto di questa sua ricerca della maternità, e nello stesso tempo tutto il fumetto è costellato da situazioni che portano, come dire, a mettere questa ricerca nel contesto, e anche discussioni, no, tra i personaggi, sull'opportunità di fare questa scelta, sul conflitto che ci può essere tra la sua vita privata e il suo impegno politico. Però, diciamo, non lo definirei neanche un fumetto sulla maternità, perché poi non è quello, però rimane dietro, ecco, questa cosa qua. Anche se, devo dire che la maternità come metafora, adesso ti porto in un territorio abbastanza spinoso, e non so se già ci allontaniamo dal focus della questione, però ti invito in un ragionamento che stavo facendo molto in questo periodo. Ok, allora partiamo dal presupposto che abbiamo parlato molto, soprattutto negli ultimi decenni, di distopia. È una parola che si è molto sentita. E anche questo libro è abbastanza distopico nel tono, anche se non è neanche tanto, cioè non è prefigurativo di un futuro, perché in realtà ritrae una cosa abbastanza presente, a parte il fatto che c'è un presidente degli Stati Uniti che si chiama Zuckerberg. Quindi diciamo che ci sono dei microelementi che sono effettivamente distopici, però per il resto è abbastanza un ritratto del presente, di un presente condito dall'ansia. Però negli ultimi decenni si è parlato parecchio di distopia e si è parlato molto poco di utopia. E per come l'ho analizzata io, la distopia è una tematica molto mascolina, diciamo, ed è un modo di intendere, di ragionare sulla realtà che è mascolino, non inteso nel senso che appartiene all'uomo, ma inteso nel senso che la narrazione distopica è distruttiva, ed è realista, ed è concreta, mentre la narrazione dell'utopia è qualcosa che implica una forza creativa. Quindi questa metafora, che poi non è una metafora perché alla fine è autobiografica, però questa metafora del dare vita, del cercare un figlio, del cercare qualcosa per il futuro, che è una metafora sull'utopia, poi è lei anche il personaggio che incarna un po' questa visione utopistica, ottimista del futuro, è qualcosa di molto femminile, e quindi il femminile è visto anche come l'elemento che porta, che crea qualcosa per un futuro che in realtà altre persone, altri personaggi, anche all'interno di questa storia, non sostengono con così tanta forza, ecco. Allora, io provo a sostenere il contrario, adesso, svegliamo se riesco, però improvviso, improvviso, io sto bevendo il mio Ricard, in realtà, quando mi dici che la distopia è un genere maschile, io ho un'obiezione innanzitutto, ed è che è vero che ci sono, come dire, delle distopie, insomma, romanzo di fantascienza distopico, che può avere un lato molto legato, che ne so, al fin d'azione, eccetera, però se ci fai caso, il grande successo della distopia nell'industria culturale degli ultimi dieci anni, che è il momento in cui davvero si inizia a macinare un sacco di successi editoriali sulle distopie, sono delle serie, e penso, innanzitutto, a Hunger Games, e in secondo luogo, a Divergent, che è una specie di copia, sostanzialmente, di Hunger Games, e poi mille altre, in realtà hanno un pubblico prevalentemente femminile, come sappiamo poi che la letteratura è, come dire, gli adolescenti femmine leggono di più gli adolescenti maschi, di regola. Quindi, no, lo dico perché è interessante anche capire come mai c'è un esatto, e poi qualcuno vedo apparire i racconti dell'ancella, pensavo anche a questo, a Hans Made Tale, che appunto racconta una distopia da un punto di vista femminile, una distopia femminista, diciamo, così come anche in Hunger Games, se vuoi, un lato vagamente femminista può essere quello che ci descrivono delle società con una competizione molto, molto, molto serrata, che ovviamente schiaccia gli individui, schiaccia in particolare le donne, la protagonista è donna. Quindi, innanzitutto, secondo me, c'è una riscoperta femminile della distopia, ed è interessante perché contraddice quelli che sembrerebbero argomenti logici, che sono quelli che segnali tu, no? E appunto, la seconda cosa è che in realtà tu associ la maternità all'utopia, mentre invece, qua effettivamente stiamo partendo su un dibattito, ma è giusto, il fumetto ci fa fare un dibattito, perché anche chi non l'ha letto lo può seguire, e poi lo leggerà dopo, ovviamente. Però la maternità in realtà è quasi, come dire, una cosa molto banale, la preservazione dello status quo, e in fin dei conti, in tutto il fumetto, quello che, come dire, il dissidio interiore che ha il personaggio è quello di vedere un conflitto di fondo tra la sua battaglia politica e la maternità, perché se diventi madre, se devi occuparti di tuo figlio, ovviamente avrai meno tempo per andare in piazza a manifestare. e quindi in fin dei conti c'è un conflitto fondamentale tra la maternità e la ricerca dell'utopia. Ecco, ma questo appunto, come dire, questo lo mandiamo anche come materia di dibattito per chi leggerà il fumetto, non so se c'è una vera sintesi da proporre. Sì, io in realtà quando penso all'utopia stavo pensando più a Octavia Butler, a quel genere di scrittura fantascientifica femminile di universo. Che non conosco, non la conosco, quindi me la perdo. Quindi che racconta invece della fantascienza utopistica. esatto, sì, ha tutta quella corrente. In realtà, sì, Racconti della Lancella è un po' il 1984 dei giorni nostri, no? È un po' quel genere di analisi di una cosa che succede e di una cosa che esiste che effettivamente portata al paradosso distopico diventa ok, sto provando il mio punto e questa è una delle funzioni della distopia, provare il proprio punto sull'analisi del presente e quindi effettivamente sì, è vero. Nel frattempo, sì, la ricerca della maternità, allora, bisogna fare una premessa per chi non ha letto questo fumetto ma che invitiamo a leggere perché effettivamente se ci porta a dibattere su tematiche madonna, la regia è prontissima. se ci porta a dibattere su tematiche così profonde, così universali, molto probabilmente è perché ha dei contenuti. Io ho ascoltato anche un'intervista a Davis che tra l'altro ha un cognome importante insomma in cui diceva che lei non dà non dà delle risposte, Lei dà del suo compito, il compito del fumettista è creare delle suggestioni e provare a dare al lettore la possibilità di interpretarle come desidera e quindi credo che questo sia un libro molto interessante perché proprio dà un sacco di spunti di riflessione e gli spunti di riflessione sono dati dalla costruzione più che altro dei personaggi. Abbiamo la protagonista di cui stiamo parlando che si chiama Hanna che è questa ragazza che appunto lei da una parte sta infissa con la volontà di fare un bambino vive con il suo amoroso che si chiama Johnny che è uno abbastanza un pothead un fattone diciamo tradurremo in italiano corrento è un fattone diciamo che io mi ci riconosco perché sono un po' io nella mia fase 1 se non che ho smesso con le canne però per il resto sono proprio io nella mia fuga dalla realtà in fase 1 diciamo che Johnny è uno che insomma non è molto partecipe del mondo è una persona che se abitasse qui con noi sarebbe non in una metropoli sicuramente ma starebbe in una casa in campagna con le bestie proprio rifiuto rifiuterebbe di pensare alle brutture in cui viviamo ma anche lui proprio esce da tutto inizia con lui e lei che vivono che vogliono costruire questa casa fuori dalla fuori della città che vogliono vivere come dire nella natura ordinando dei semi ordinando delle piante quindi è tutto come dire c'è questo lato questo sogno questa utopia in un certo senso survivalista o hippie sostanzialmente neo hippie che appunto però procede un po' a rilento per via del fatto che appunto lui è un po' pigro un po' pattone esattamente infatti lei è iperattiva mentre lui va con molta calma con molta calma lei lavora cioè fa un sacco di cose ma lui è anche un po' mantenuto in un certo senso sì diciamo che su questo se partiamo dal presupposto che il futuro è una merda ci sono diverse diversi modi per reagire a questa constatazione no nel momento in cui ti rendi conto che il presente è una merda ma è futuro di più allora dici ok cosa faccio e uno infatti ha ragione lui in fin dei conti è più ragionevole cosa faccio mi fumo le canne coltivo i semi questa è la vita che voglio fare ha ragione lui diciamo che c'è tutta una parte maschile dei personaggi che sono Johnny e il suo amico Tyler che è un incel di cui dopo parleremo che sono un po' più diciamo statici e rintanati rispetto al mondo mentre la parte femminile che sono Anna e la sua amica Gabby che tra l'altro sono pettinate uguali con questa pettinatura che secondo me è la pettinatura del 2020 questa specie di mallet alla Tiger King che hanno entrambe sono molto simili ma sono in realtà opposte per quanto riguarda l'approccio alla realtà cioè Anna appunto è quello che abbiamo detto mentre mentre Gabby è è una che diciamo diciamo che potrebbe aver letto Mark Fisher potrebbe essere molto fan di Mark Fisher per quanto mi riguarda beh però Mark Fisher è molto cioè adesso vasto dibattito però appunto Mark Fisher ha un lato molto distattista molto depresso mentre Gabby è molto energica e militante quindi in questo senso sì però è anche quella che nel momento in cui vanno nel bosco vede che vede che sta marcendo tutto e dice vedi vedi qua hanno rovinato la natura nel momento in cui Anna dice che vorrebbe un figlio si incazza con lei quindi diciamo che vive la militanza in una maniera molto più appunto disfattista disillusa più che altro più che disfattista cioè questo ottimismo per il futuro che rappresenta la protagonista lei diciamo che non lo condivide ecco quanto meno sì tra l'altro tutto il come dire tutto il il fumetto racconta come dire una 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 storia diciamo di militanza politica che appunto ha delle analogie con col presente ma ovviamente anche col passato perché ci sono degli echi di Occupy Wall Street ci sono degli echi poi della storia diciamo dell'attivismo in generale e americano in particolare ci sono lo vediamo forse anche qui in questa scena alcuni anche questa dei personaggi di colore o neri non so come come preferite dire forse neri è meglio però non è come dire un tema centrale non è assolutamente una roba che emerge bianchi neri eccetera però invece una cosa relativamente all'attualità che emerge è come dire la violenza poliziesca cioè c'è una manifestazione tra l'altro tra gli slogan c'è anche già la critica della polizia come come dire anche ai tempi come dire non è nata ieri questa cosa e vediamo una scena di violenza poliziesca quindi una scena ormai che per noi è abbastanza classica vista e stravista negli ultimi vent'anni ormai se non di più cioè di scontri di piazza polizia tra l'altro la polizia è messa in scena lo vediamo in queste immagini in maniera molto molto epica molto cioè vediamo sono innanzitutto enormi completamente neri e senza volto tranne a un certo punto in cui vedremo anche addirittura gli occhi di una poliziotta in una scena abbastanza interessante questa è l'amica che arriva enorme con la sua mascherina antigas questa è l'amica radical radical però appunto c'è questa messa in scena sia appunto della della polizia che delle rivolte che come dire mi ha colpito molto di questo fumetto anche il lato grafico cioè uno stile grafico lei è un'illustratrice che ha illustrato molto come dicevi anche tu quindi ha un talento da illustratrice e anni alle spalle di esperienza uno stile come avete visto molto molto rapido molto molto semplice ma molto adatto a narrare le cose a narrare il movimento e appunto ci sono queste scene di piazza che mi hanno ricordato altre cose cioè si inserisce in una tradizione di rappresentazione fumettistica delle piazze che è interessante forse abbiamo esatto due fumetti a cui mi ha fatto pensare uno è figlio di un preservativo bucato di Howard Cruz che raccontava i movimenti per i diritti civili tendenzialmente gay mi pare fosse quelli degli anni 70 e che era uscito in Italia ormai una ventina di anni fa e che appunto ti mostra fin dalla copertina si vede queste scene di grandi adunate oceaniche e poi un altro fumetto molto bello uscito un paio di anni fa e che in questi giorni merita anche questo di essere riletto è March di Nate Powell illustrato da Nate Powell e lo sceneggiatore forse si vede qua John Lewis che racconta sostanzialmente in tre volumi la storia dei movimenti per i diritti civili dei neri americani a partire da Martin Luther King e anche quello che è molto documentario mostra appunto le marce le violenze tutta una serie di cose che secondo me il fumetto rappresenta molto bene c'è una cosa a cui non pensiamo spesso cosa fa bene il fumetto cosa racconta bene il fumetto cosa riesce a mettere bene in scena il fumetto una cosa a cui non pensiamo molto però sono i movimenti di piazza i movimenti perché se devi mostrarlo in un film devi avere tantissimi figuranti e allora devi essere un film di Hollywood se lo devi mostrare in un romanzo non lo puoi mostrare lo devi raccontare invece il fumetto riesce a mostrare questa cosa i corpi che si accalcano i corpi che si muovono i corpi presi a botte e questo è abbastanza come dire anche un filone di ricerca interessante una storia delle manifestazioni messe in scena nei fumetti e lei si inserisce bene perché appunto c'è questo gioco di neri bianchi e neri chiaroscuri molto efficace in cui la polizia poi appunto arriva come una specie di onda di onda di onda nera gigantesca potente in cui appunto la sola che è ancora più potente di loro è Gabby con questo corpo enorme con questa maschera antigas e quindi lì abbiamo delle scene che sono più o meno a metà del fumetto verso forse la seconda metà che sono molto molto efficaci insomma e sottolineiamo anche per appunto contrastare quando dicevamo un fumetto che parla molto di maternità sì e no parla anche molto di botte ecco quindi anche i maschi possono facciamo quella distinzione maschi-femmine potranno trovare un po' di violenza sì parla di maternità delle idee non lo so è più è più è più ampio sì poi ovviamente la maternità è anche un'occasione per pensare per pensare al futuro come dici tu gli elementi grafici che sono isolati che sono sottolineati dalla presenza di molto nero sono ovviamente gli elementi collegati alla tematica della violenza che è presente è presente in tutto quanto il fumetto il gruppo di attivisti di cui fa parte la protagonista è un gruppo molto indefinito mi ero segnata il nome si chiama HAAV che sarebbe Humans Against All Violence ed è un gruppo diciamo molto molto inclusivo vediamo delle persone di vari orientamenti e varie identità che lavorano lavorano tutte quante per per la pace sostanzialmente che è un concetto assolutamente può essere vago però in realtà è calzante perché alla fine è quello che cercano anche lo slogan delle rivolte di questi giorni è No Justice No Peace quindi alla fine l'obiettivo finale è vivere in pace e quindi rappresentare la rivolta rappresentare delle manifestazioni delle proteste nella maniera più universale possibile è rappresentare delle proteste dei gruppi di protesta che combattono per ottenere la pace contro un utilizzo di armi chimiche o non chimiche o comunque e di una diciamo un rapporto violento con con le persone con l'ambiente con in generale dei rapporti di potere gestiti con la violenza un'altra un'altra tavola molto bella che c'è in questo in questo fumetto che parla sempre di violenza oltre a quelle con i poliziotti che arrivano che sono che sembrano sembrano quasi degli alieni neri all'orizzonte minacciosi un'altra tavola molto bella è una tavola che che c'è quando quando il ragazzo il compagno di Gabby sta parlando con il suo amico l'amico del compagno di Gabby si chiama Tyler ed è una specie di incel no Raffaele possiamo dire si incarna un po' appunto l'alt-right cospirazionista poi anche fisicamente insomma no c'è proprio anche un po' caricaturale ovviamente mostra il suo arsenale di armi esprime le sue teorie sui droni che ci controllano però d'altra parte visto che siamo in un fumetto distopico che racconta un futuro distopico magari c'è anche ragione non lo sappiamo ma il dubbio viene al lettore e soprattutto viene al ragazzo di Anna al ragazzo della protagonista perché lui appunto di cui parlavamo il fattone lo chiameremo per non ricordarlo perché lui è un po' combattuto nel senso che da un lato appunto c'ha questo animo hippie da un lato c'ha la ragazza militante eccetera dall'altro frequenta questo amico un pochino un pochino crede a quello che dice un pochino no questo tra l'altro lo aiuta a costruire le cose la casa eccetera eccetera quindi c'è come dire un'ambiguità e ce lo dicevamo prima discutendo che in fin dei conti il nostro amico fattone è un po' l'americano medio combattuto tra diciamo estrema destra estrema sinistra o comunque quella parte di elettorato americano che oggi più di ieri perché ieri c'erano ancora delle categorie più rigide più stagne può essere sballottato da una parte all'altra in funzione dei casi della vita anche magari e quindi lui rappresenta questo tipo di confusione diciamo dell'elettorato americano e magari di una parte dell'elettorato anche di sinistra americano che appunto prima inizia a fumare le canne poi esce dalla città poi compra i semi e le travi per costruirsi una casa poi inizia a conoscere appunto l'amico Insel e poco a poco magari si allontana sempre di più da quella che è la sua il suo campo la sua ideologia di partenza e il fumetto indirettamente racconta ai margini anche questa questa potenziale sottotrama perché poi non ci viene data una risposta non ci viene data una soluzione davvero però ci fa intuire questa confusione e questa confusione politica che vive oggi l'America ma non solo ovviamente sì sì infatti non capisco perché dici soltanto in America però è una figura che si può ritrovare chiaramente dappertutto anche 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 qui cioè la persona che scappa dalla realtà e lo può fare in tanti modi da una parte con con questo fricchettonismo estremo e dall'altra parte come il nostro amico chiudendosi nel suo bunker il tipo ha un bunker vero e proprio effettivamente questa è una cosa molto americana come Trump come Trump abbiamo scoperto recentemente che Trump ha un bunker in cui va quando è andato a spolverarlo in realtà non si è non si è rifugiato veramente nel bunker comunque è un'altra delle tavole molto potenti che ci sono all'interno di questa graphic novel è quella in cui c'è la pistola che che Johnny riceve in mano dal suo amico Tyler e adesso la vediamo così ma diciamo che sul sul libro sul libro in carne ed ossa fa un altro effetto perché è veramente una bella tavolozza e anche dettagliata molto più dettagliata molto più cesellata diciamo rispetto ad altre ad altre immagini quindi che consigliamo il libro anche agli amanti delle belle pistole per questa come dire pornografia e tra l'altro l'autrice racconta che effettivamente questa questo momento questa tavola della pistola è stata ispirata da un momento in cui lei effettivamente le è capitato a me non è mai capitato non so se a te è capitato di prendere in mano effettivamente una pistola e lei dice che era con un suo amico ha passato tipo uno o due giorni insieme a questo suo amico e sono successe diverse cose ma l'unica cosa che le è rimaste in testa è quando lui le ha fatto sentire il peso della pistola dice che si ricorda il peso della pistola in mano quindi diciamo che questo rappresenta anche forse per una persona che sceglie di non combattere nella vita di non fare niente rappresenta forse anche non lo so un dubbio se forse è necessario non dico combattere ma difendersi questa tematica dell'autodifesa che tira fuori l'amico e poi ricordiamo quello che diceva Chekhov che ogni volta che in un'opera d'arte in un dramma teatrale appare dal primo atto una fucile una pistola in qualche modo verrà usato questo lo diciamoci non vogliamo fare nessun tipo di spoiler però insomma vedrete nel caso in cui decideste di comprare questo bellissimo libro vedreste insomma come viene utilizzata questa pistola ma senti io mi sono segnato che abbiamo addirittura un intervento dell'autrice registrato che possiamo mandare in onda anche che non so se avevi previsto in un momento di mandarlo secondo me hai fatto bene a tirarlo fuori proprio ora allora chiediamo alla regia di mandarlo ringraziamo la regia tra l'altro di Sara numero uno hello my name is Eleanor Davis and I'm very glad that my graphic novel The Heart Tomorrow is going to be coming out in Italy from Rizzoli Press with the title Il Futuro No Promete Bene My book is a small story about ordinary people a wife Hannah and her husband Johnny One of the things that happens in the book is Hannah is a member of a anti-war activist group which is met with repression and violence by police forces Currently in America and all over the world we are seeing people rise up against police brutality in America black and brown people but especially black people are victims of harassment violence imprisonment and murder by police Some people have told me that my book feels prescient in this current moment that brings me no joy What I want more than anything is for my book to have no relevance altogether as we fight for and somehow against all odds win a future that is not hard but peaceful humane and just Thank you for protesting Take care of one another Take care of yourself Black Lives Matter Define the police fantastic abbiamo anche visto non avevo ancora visto il messaggio ma appunto il bambino quindi insomma c'è anche un eco con la storia del libro effettivamente ha fatto questo legame con l'attualità e con quello che succede oggi ha più o meno riassunto il principio un po' quello che abbiamo detto sui personaggi però effettivamente sembrava molto ammareggiata che la sua distopia fosse diventata così rapidamente una fotografia del reale tra l'altro salutiamo l'autrice e il suo bambino che è arrivato, io ho scoperto tra l'altro ascoltando un podcast che ha registrato che è arrivato il bambino nello stesso momento in cui lei è arrivato il libro in mano quindi anche in questo è stata una sorta di profezia autoavverante questo libro, lei l'ha scritto mentre era incinta e l'ha dedicato a questo figlio effettivamente c'è questo ruolo dell'attivismo su cui vorrei anche interrogarti o interrogarci il punto è che senso ha in questo momento l'attivismo e vediamo che ad esempio quest'anno diverse cose sono state esasperate un po' dalla presenza di questa specie di non so se chiamarlo Deus Ex Machina che è il virus che ha fatto affiorare molte contraddizioni della nostra società nel bene e nel male nebbene penso a le esperienze di solidarietà che si sono create in questo periodo che hanno mostrato uno strato della società che è molto pronto a reagire per non abbandonare gli ultimi nel momento del bisogno che è come un organismo parastatale che si muove e nel male il virus ha accentuato ancora di più le disparità che ci sono a partire dal fatto che alcune persone hanno potuto passare la quarantena in una casa bella, ampia e altre persone invece l'hanno passata per la strada io vorrei interrogarci su che senso ha in questo momento che spazio ha l'attivismo che in questa graphic novel è anche presentato come molto old school rispetto all'ipertecnologizzazione della società mentre il presidente del nostro libro si chiama Zuckerberg le persone che effettivamente fanno parte delle proteste protestano con dei cartelloni perché nel libro ricordiamo che dicono esplicitamente che i poliziotti hanno vietato l'utilizzo dei megafoni hanno classificato il megafono come un'arma quindi gli attivisti l'unica arma che hanno sono i cartelli e anche i cartelli vengono ritirati dai poliziotti che senso ha lottare per un futuro in questo momento e per quale futuro vogliamo lottare? ma guarda, secondo me c'è innanzitutto un paradosso sul fumetto interessante che è che sostanzialmente lei si è trovata di fronte all'ascesa di Trump a voler fare un fumetto distopico quindi raccontare un futuro che in teoria dovrebbe essere peggiore del presente però di fronte a una terribile difficoltà senza voler dire una banalità, una caricatura però è vero che è difficile immaginare qualcosa di peggio di Trump cioè è difficile, poi sicuramente ci si arriverà e Trump stesso magari è capace di portare oltre i suoi come dire, ottenere risultati ancora peggiori però è vero che è molto difficile tant'è che quando ci sono queste manifestazioni nel fumetto sono abbastanza classiche il potere politico non entra molto non si dice, cioè questa guerra ma voglio dire non è la prima, non è l'ultima ma appunto manifestazioni contro le guerre americane ce ne sono state periodicamente perché le guerre americane periodicamente ci sono state e quindi paradossalmente ci troviamo con una distopia che ci racconta sostanzialmente perché si concentra sui personaggi e sulla loro militanza qualcosa di un certo tipo e con una realtà che per certi aspetti è molto più strana più inquietante e tra l'altro più irrealistica perché l'ultima in data è questo tweet di ieri di Trump che se la prende con un signore anziano che è stato, avete forse probabilmente visto il video un signore anziano che è stato spintonato dalla polizia è caduto per terra e è andato in coma è iniziato a sanguinare quindi anche un'immagine molto forte e lui ha scritto questo tweet dicendo che lui era un provocatore che faceva finta eccetera un tweet abbastanza delirante oltre a essere fuori dal nome della persona quindi completamente not presidential e quindi è difficile immaginare avere la stessa fantasia distopica e caricaturale che può avere Trump nella realtà quindi questo è il punto storicamente in cui siamo e io sfido tra l'altro a immaginare delle opere d'arte in cui abbiamo visto delle cose altrettanto surreali mi viene in mente Marta Washington Ghost to War di Gibbons e Frank Miller che anticipa certi aspetti ovviamente molto futuristico quindi in realtà ovviamente è diverso mi viene in mente avevo pensato un altro ma me lo sono dimenticato vabbè però tutti i fumetti in cui ovviamente il lato fantascientifico la tecnologia è diversa quindi sembra un altro mondo però non si va tanto oltre nel grottesco quindi questa è la situazione in cui siamo oggi rispetto alla questione dell'attivismo anche quella è andata molto oltre perché lei nel fumetto come dicevamo fa qualcosa di abbastanza classico anche perché secondo me è il modo migliore di raccontare la vita degli attivisti dei personaggi senza poi perdersi in tale battaglia o tal'altra battaglia che poi può essere divisivo per i lettori qua abbiamo una generica battaglia politica e poi osserviamo il modo in cui si comportano le persone però è chiaro che oggi siamo arrivati a delle problematiche molto molto particolari come dicevi tu l'epidemia di covid-19 ha fatto saltare tutta una serie di contraddizioni che erano già per gran parte visibili però erano in una certa misura trattenute abbiamo avuto un enorme picco che avete visto anche voi tutti credo e che non saprei neanche quantificare delle domande di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti abbiamo avuto in Italia una settimana dopo l'inizio del lockdown le rivolte nelle carceri abbiamo avuto ovviamente un'economia che si ferma e quindi tutta una serie di persone che non hanno risparmi e che magari lavoravano in nero o lavoravano in maniera precaria che si trovano dal giorno all'indomani a non avere riserve finanziarie a cui fare riferimento quindi tutto questo ovviamente crea una situazione molto molto tesa io non so sinceramente penso nessuno possa dire con certezza che queste rivolte sono che vediamo oggi il risultato della situazione americana del covid che le ha scatenate perché c'erano tante ragioni di andare in piazza e buttare giù delle statue e spaccare delle vetrine anche prima che ci fosse il covid-19 non è che sono cambiate la situazione non è cambiata la situazione e tra l'altro questa rivolta in nessun momento fa riferimento a questa situazione specifica però è chiaro che come dire smuove delle cose e le porta in quella in quella direzione lì io poi per mia natura tendo ad essere abbastanza pessimista e come dire per me quello che sta succedendo è che sta saltando tutto semplicemente quindi io non ho messaggi messaggi di speranza però appunto visto che io rappresento il polo distopico il polo utopistico lo lascio a te quindi che è anche un un insidioso un regalo insidioso diciamo è una grossa responsabilità è un'enorme responsabilità sì non lo so per quanto mi riguarda io faccio più delle delle riflessioni diciamo sul ruolo che ha la nostra generazione in questo momento cioè che era poi anche un'altra un'altra delle questioni che volevo sottoporti in questa discussione cioè è molto complicato decifrare decifrare il tempo presente è estremamente complicato capire dove siamo dove dove andiamo per che cosa si sta muovendo e perché si sta muovendo la persona la protagonista diciamo del nostro romanzo di cui stiamo parlando è una persona che si trova a metà tra due generazioni cioè la generazione del passato che è rappresentata da questa signora anziana c'era una tavola che stavamo vedendo questa signora anziana la signora Phyllis che è una vecchia antisemita che tra l'altro vabbè diciamo che essendo la nostra protagonista ebrea fa anche ridere che lei si esprima contro il suo taglio di capelli non la capisca che le dica delle cose che sono un po' che straparli anche però insomma diciamo che questo è il vecchio mondo che non capisce il nuovo mondo e che sta in questo momento è morente moribondo poverina anche un po' rincoglionita è una vecchia rincoglionita però è una boomer proprio al tramonto esatto che è un po' è un po' anti-Trump nei suoi deliri se non fosse straricco se non fosse presidente diciamo dall'altra parte c'è un mondo nuovo che spinge per essere considerato per entrare per entrare nella storia che è rappresentato appunto secondo me nella mia interpretazione da questo figlio che lei che lei cerca da queste cose da anche questi concetti che cerca di portare dentro al mondo e credo che questa faccia faccia parte anche di una riflessione che io faccio molto soprattutto in questo periodo del ruolo della nostra generazione che è un ruolo di ponte è un ruolo di traduzione quasi cioè credo che chi ha un piede dentro dentro i boomer e un altro dentro agli zoomer sia naturalmente predisposto a ad essere una specie di traghetto e di ponte tra una realtà vecchia che sta morendo e la necessità di far emergere dei nuovi valori far emergere nuove strutture sociali basate su fondamenta completamente ricostruite rispetto alla distruzione totale dei sistemi che ci reggevano in passato quindi ti chiedo secondo te che tipo di ruolo può avere la narrazione che poi è anche quello che sta sostenendo da un certo punto di vista secondo me per quanto per quello che vedo io le proteste negli Stati Uniti che non sono delle proteste che succedono che avvengono e poi spariscono ma sono sostenuto da un impianto teoretico che vabbè arriva da un passato di militanza molto potente ma anche da un'iconografia pop che arriva a supporto di quello che succede dei movimenti e della sete di cambiamento che stiamo vedendo in questo momento negli Stati Uniti che è un'iconografia che passa dalla musica al cinema ai documentari perché in questo momento stiamo vedendo così tante ritte di film da vedere di libri da leggere eccetera perché gli Stati Uniti producono un sacco di cultura pop a sostegno di movimenti politici che è una cosa che in Italia succede molto poco cioè o abbiamo dei testi accademici che comunque sono accessibili a pochi oppure diciamo che la pop culture sembra un po' distante da questa cosa mentre per come lo percepisco io e anche il modo in cui percepisco quello che faccio io di stare un pochino con un piede dentro la televisione con l'altro piede dentro le realtà militanti è un ruolo di traduzione di rendere accessibile questa questa lotta sì io sulla cultura pop ovviamente sono molto d'accordo e sulla capacità della cultura pop americana in tutta la sua ambiguità poi di di come dire recepire delle cose che succedono nella società e rifiltrarle tra l'altro in maniera magari molto metaforica ma io ho scritto un sacco su come i film Marvel hanno questa funzione perché leggevo recentemente non so più chi forse un post su The Philosopher's Meme che è una pagina di memi filosofici ma abbastanza famosa in cui diceva i film americani i film di superiore sono un modo di come dire di difendere l'ideologia americana quella più più banale in realtà quello che a me colpiva di più è il contrario cioè il modo in cui in realtà filtrano continuamente dei messaggi antisistemici però in realtà molto confusi ovviamente ognuno prende quello che ci trova dentro però appunto l'esempio classico ormai per quanto sia recente Iron Man che scopre a un certo punto nel film di essere lui stesso il produttore delle armi che vengono usate dai terroristi mostrare queste cose in film così di ampio pubblico a bambini persone che non sono mai posti questi problemi in realtà è molto dirompente e in realtà queste circolazioni tra immaginario e realtà poi vanno come dire si autoalimentano a vicenda perché tu poi hai i video di Kanye West diretto da Romanga Brass che ti mette in scena una rivolta e però paradossalmente c'è lo spot della Pepsi che prova a rifare quella stessa estetica in cui c'è la rivoluzione però la rivoluzione sexy e però nello stesso tempo tutti si vogliono bene e però che produce quello spot che poi è stato subito ritirato in cui c'è Kendall Jenner mi pare una sorella forse di Kim Kardashian che va a portare una grande rivolta molto estetizzata e lei porta una Pepsi al poliziotto il poliziotto la beve quindi c'è un grande momento molto bello di unione come? beh un po' cringe sì appunto spot subito ritirato perché appunto in quel processo di estetizzazione della rivolta andava un po' troppo oltre e quindi in realtà non ha funzionato però ce ne sono tanti altri che in realtà sono su quel limite lì e quindi questa circolazione tra realtà immaginario c'è sempre ed è la forza dell'America nello stesso tempo è la sua forse anche la sua debolezza la sua ipocrisia il suo continuamente fare i conti tra l'altro con il suo passato con le sue contraddizioni con la violenza dei bianchi sui neri Watchmen la serie l'anno scorso lo ha fatto in maniera molto molto non so se efficace perché perché io in realtà mi ha un po' annoiato a un certo punto però è molto 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 forte molto forte ho visto la prima solo la prima puntata in realtà però in cui racconta un fatto completamente sconosciuto e incredibile anche lì la realtà che va al di là della finzione di quando sostanzialmente il governo e i bianchi hanno bombardato un quartiere nero americano all'inizio del secolo verificate meglio perché ve l'ho raccontato in modo forse confuso quindi questo su circolazione tra immaginario e realtà sulla speranza per la nostra generazione assoluta io ovviamente dico assolutamente no nel senso che che per me come dire non ho penso che veramente la generazione di millennial di millennial sia in fin dei conti siamo dei boomer più giovani però siamo veramente forse gli ultimi del vecchio mondo e forse queste rivolte che vediamo oggi negli Stati Uniti sono interessanti proprio per quello cioè perché per quanto i millennial che oggi sono in particolare negli Stati Uniti quasi arrivati o ormai arrivati nei punti del potere culturale nel giornalismo nell'editoria eccetera e quindi possano esprimersi influenzare egemonizzare dei movimenti o provare a egemonizzarli in realtà questa rivolta qua che abbiamo è una rivolta dei neri innanzitutto ed è una rivolta che porta delle istanze che sono quelle che sono delle istanze in cui sostanzialmente i bianchi possono cercare per quanto vogliono di interpretarle dare consigli dare pareri mettere il cappello sulla rivolta o intervenire in piazza però quello che su me è interessante è proprio che non è la nostra cioè non è la rivolta generazionale di millennia non è la rivolta di quel mondo lì è la rivolta di un mondo nuovo e quindi in questo senso è forse più interessante io sinceramente penso che noi non abbiamo nulla da dire nulla da traghettare in questo senso cioè adesso esagero un po' però però c'è qualcosa c'è qualcosa di interessante proprio nel fatto che non siamo noi ecco che non siamo coinvolti cioè lo siamo in un altro modo ecco non so se sono completamente d'accordo salutiamo Alessandro Trevisani che dice che gli abbiamo messo una voglia di aperitivo addosso destiale sì io non ti consiglio di fare l'aperitivo come lo fa Raffaele perché lui beve il pastis che per quanto mi riguarda è un drink abbastanza violento io vado di vino io tra l'altro l'ho finito andrei anche a rifarmene uno e tra l'altro abbiamo un ultimo video da mostrare quindi magari mentre mostriamo il video io vado a riservirmi se vi va va bene sì abbiamo anche tra l'altro quasi finito il nostro tempo quindi mostriamo il secondo video che è una una live come come si può definire questo secondo video e io non l'ho ancora visto però mi sembra di aver capito che è un come dire un un reportage visivo disegnato da Eleonard Davis sul Messico mi pare però adesso io lo scoprirò con voi ok scopriamolo insieme I'm moving through farmland in west Texas the mountains of Chihuahua Mexico are on my right in the distance and between us is a tall dark strip of fence a little black car goes screaming past me and then a border patrol truck then a couple miles ahead it's the little black car it's empty what's going on they're gonna try to lasso him I'm gonna go watch the roping he crosses under the bridge I thought he was a big man but when I move around to see his face he's thin and young he's walking through the water the border the border patrol deputies and EMTs walk beside him on either bank eventually someone starts saying we can help you we can help you man and he comes to the bank and he comes to the bank of the canal and he half climbs half gets pulled out and they push him down and handcuff him and he's screaming hoarsely then the EMTs bring a stretcher and they uncuff him again so that they can take his wet shirt off and they wrap him in blankets and they take him away but right now for a long time he's in the canal staring straight ahead walking slow the end well mega poetica lei comunque le ispirerà anche un fumetto poi non so quali sono i suoi progetti per il futuro no sarebbe da chiederglielo sicuramente di crescere questo questo bambino nel modo più sano possibile e insomma nel frattempo credo che il nostro tempo sia finito e quindi augurando Eleanor Davis un futuro editoriale favoloso e invitiamo tutti i lettori italiani ad acquistare questo questa graphic novel che comunque è ricca di spunti come abbiamo trovato in libreria perché poi le librerie hanno riaperto facciamo anche un messaggio promozionale per le librerie no hanno riaperto si può andare in libreria si può comprare i libri poi i libri di Rizzoli Lizard lo diciamo perché ovviamente siamo qua e non possiamo dire altro ma in realtà lo diciamo con sincerità ma sono sempre molto curati sia nella scelta io non conoscevo questa autrice quindi anche un modo di conoscere cose nuove ma anche poi nella cura grafica nel come dire in tutto Roberto Laforgia che fa sempre delle come dire delle delle confezioni grafiche molto molto eleganti e poi c'è anche la prefazione di Virginia W. Rich un'ottima prefazione che tra l'altro ho scritto questo febbraio mentre mi trovavo a Sanremo durante il festival di Sanremo che è forse il luogo più distopico d'Italia quindi nel disagio profondo ho tirato fuori questa prefazione che in qualche modo risulta comunque stranamente ancora centrata sembra ragionevole non sembravi non sembravi preda a fumi dell'alcol quindi va benissimo no no va bene io ti ringrazio Raffaele grazie a te buon buon proseguimento di serata con i restanti pastis io me ne sono fatto appena uno nuovo intero quindi adesso sarò qua e lo berrò da solo guardando il tramonto perfetto super romantica come immagine buona serata ciao